Se le cimici dei letti infestano appunto i letti ne vediamo anche in metro, sui sedili degli autobus e sulle poltrone dei cinema? Semplice, perché le portiamo noi. Siamo noi infatti a trasportarle passivamente da un posto all'altro. Quando la situazione in un appartamento è molto critica, il rischio di trasportarle su un indumento o sulla borsa che avevamo appoggiato sul letto è molto alto. Ecco quindi che inconsapevolmente potremmo disperderle un po' ovunque. La cimice dei letti è di per sé un animale che possiamo definire pigro. Infatti non vola e non si sposta agilmente. Dal letto non si muove se non siamo noi a portarla via da lì. Non solo, la cimice è un animale lucifugo, vuol dire che non gli piace la luce, la rifugge, quindi tende infatti a nascondersi di giorno. Per questo trova spesso riparo nelle fessure. E poi è un animale gregario, ama quindi stare in gruppo. Ma è anche un animale tigmo tattico, cioè rimane a stretto contatto con le superfici. Per sentirsi più al sicuro.